Buongiorno, siamo qui con Gennaro Ivone, migliori in campo della partita tra Ciupa Soccer e Dream Team, terminata sorprendentemente 3 a 1. Ivone, migliori in campo, difensore, non ha segnato nessun gol. Allora, perché migliori in campo? Abbiamo fatto una grande partita sotto il profilo tattico, difensivo e offensivo. Va bene, senti, data questa vittoria avevate due scontri tra Keller e Dream Team, erano ottici, e invece siete usciti alla grande, insomma. Puntiamo al mino al terzo posto. Al terzo posto, non di più. Al mino, no, adesso poi vincere il torneo, è normale. Ho capito, ho capito. Va bene, senti, come dedicare, se non i gol, il premio a qualcuno? Alla mamma di Sassi, Mario Pasquale e Sergio Riccardo dell'area Norte. Ok, va bene, allora salutiamo Ivone, Ciupa Soccer.